Dal Vangelo secondo Giovanni La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani al fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro «Ricevete lo Spirito Santo! A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati!» Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo!» Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente!» Gli rispose Tommaso «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse «Perché mi hai veduto, tu hai creduto! Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» Gesù, in presenza dei Suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti «Perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel Suo nome». Parola del Signore In questa domenica abbiamo la possibilità di capire, penso nel giorno migliore dell'anno, che cos'è la domenica. Ecco, la domenica è proprio la Pasqua che si rinnova ogni settimana. Da sempre, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, i cristiani, i discepoli di Gesù, in questo giorno, quella volta si chiamava il giorno del sole, come ancora si chiama nelle lingue anglosassone, no? Sunday, per esempio. Ecco, in quel primo giorno della settimana ebraica, che diventerà il primo giorno, non il weekend, il weekend è sempre un'idea anglosassone per i cristiani, la domenica è il primo giorno della settimana, in quel giorno del sole, da sempre, i discepoli di Gesù si sono riuniti. Dice il Vangelo, otto giorni dopo, noi diremmo una settimana dopo, loro contavano sia il giorno di inizio che il giorno di fine, i discepoli erano di nuovo in casa, erano di nuovo riuniti, come il giorno di Pasqua, e da allora non hanno mai smesso di riunirsi. Ecco perché la domenica è così importante per i credenti, non è un giorno come gli altri, non solo perché non si lavora, a parte che c'è anche chi deve lavorare la domenica, ma perché è il giorno della risurrezione, perché è la Pasqua della settimana, perché è il giorno in cui Gesù risorto ci convoca, per mostrarsi come ha fatto a loro, per mostrarsi nella nostra assemblea che si riunisce, nella parola che ascoltiamo, nel pane dell'eucaristia che spezziamo. Ecco, chi guarda la domenica e chi vive la domenica così, si rende conto che la domenica non è solo andare a messa, la domenica, per i credenti, è un giorno grande, è il giorno in cui recuperare la gratuità dei rapporti, delle relazioni, è il giorno in cui contemplare la natura, non tanto per andare al centro commerciale, ma per fare qualche cosa di bello e di buono, per ascoltare la musica, per stare in mezzo alla natura, per stare con gli amici se possibile, con le persone care. Ecco allora che la domenica, il giorno del Signore, è il giorno della comunità, è il giorno anche della fede, come quella di Tommaso, la fede che non ha più bisogno di toccare, di vedere con gli occhi del corpo, perché adesso ha imparato a vedere con gli occhi del cuore. Beati quelli che pur non avendo visto, che non hanno visto, dice Gesù, e hanno creduto. Non abbiamo visto, abbiamo ascoltato i testimoni, non abbiamo visto, ma sappiamo che, come dice padre Hermes Ronchi, l'amore ha scritto la sua storia, nel corpo di Cristo, con l'alfabeto delle ferite, e che ora, da quelle ferite, da quei fori, diventati feritoie, di luce, arriva il dono dell'amore, il dono della grazia, il dono di incontrare Gesù. Possiamo incontrarlo davvero, nella nostra vita, ogni domenica, ma forse anche ogni giorno, nel volto di chi ci è accanto, nella parola ascoltata, e soprattutto, nell'amore vissuto. Buona domenica.